Tifosi bianco celesti ben ritrovati con Entella Time, elotizzario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella è la vigilia di Rimini Entella, terza giornata di ritorno nel campionato di Serie C, girone B domani i bianco celesti alle 14.30 di scena in Emilia Romagna per affrontare i bianco celesti. I padroni di casa che nell'ultimo turno hanno perso 1-0 il derby con il Cesena. Sarà una gara molto impegnativa, molto importante, Entella che quest'anno in campionato ha vinto sei partite lontano dal comunale. Questa mattina come sempre la rifinitura al comunale, dopodiché nel primo pomeriggio la partenza per Rimini. Andiamo a vedere anche in sovraimpressione quelle che sono state le dichiarazioni di Mr. Volpe nel presentare questa partita. Grande rispetto per la formazione di Gaburro ma anche grande voglia di andare a Rimini a fare una bella partita, una squadra che a detta del tecnico bianco celeste in settimana si è allenata con la giusta concentrazione. Non giocheranno soltanto i ragazzi di Gennaro Volpe nel fine settimana, vediamo anche in grafica gli appuntamenti di campionato del nostro settore giovanile. In particolare domani alle 10 a Perugia, di scena alla primavera di Mr. Melucci, campionato anche per Under-16 e Under-12. Entella time per tutti gli approfondimenti, commenti e risultati, torna a lui di puntuale all'ora 19.